cari amici di mille un'avventura eccoci tornati come di consueto di domenica con il nostro tg 1001 questo notiziario che in realtà è un riepilogo di ciò che è capitato la scorsa settimana sul canale di mille un'avventura ma anche su tanti altri canali youtube che seguo e che magari sono iscritti a loro volta al nostro canale andiamo subito a vedere innanzitutto che cosa abbiamo proposto avevamo proposto un sondaggio in cui è spiccato godò con un city builder che ci ha regalato kenney e subito dopo codifica e decodifica in c questo sondaggio ha raggiunto i 44 voti e sembra che le avventure testuali siano davvero poco gettonate dai nostri iscritti 2% solamente pazienza ce ne faremo una ragione e cercheremo di portare quello che vi interessa ogni volta che proponiamo qualche argomento mi raccomando commentate suggerendo nuove possibilità ecco vedete che avevamo iniziato proprio la settimana lunedì parlando di informa 7 e di whirlpool che può portare in effetti all'interno di queste avventure testuali grafica e suoni qualcuno interessato c'è e quindi ci torneremo ma poi siamo passati a play canvas anche questo non è proprio il più gettonato degli argomenti però altri interessati ci sono e la prossima settimana torneremo a parlarne abbiamo visto come muovere le unità all'interno a muovere dei personaggi animati all'interno di una scena e è venuto piuttosto bene il programmino d'esempio e ultimamente poi ci siamo messi a provare diversi giochi che su steam alcuni degli iscritti hanno pubblicato abbiamo provato questo sogno senza fine un dimostrativo che potete tranquillamente provare anche voi c'è una scena in cui onirica in cui bisogna in qualche modo scoprire i vari puzzle che si presentano come risolverli lo consiglio poi siamo appunto passati a godò prendendo spunto da kenney che ci ha proposto questo city builder possiamo collocare molto facilmente con una particolare diciamo oggetto che all'interno di godò una serie di edifici collegare strade alberi e si può perciò pensare con questi simpatici edifici simpatici modelli che kenney ha predisposto di preparare ed avere un city builder che poi prende forma prende si anima magari programmando il movimento di unità automobili e quant'altro su queste scene ovviamente è solo un abbozzo da cui partire tutto questo poi siamo passati a parlare di crittografia grazie a del codice che ci è stato mandato da gdprod abbiamo un po' cercato di capire come si può crittografare rendere incomprensibile un messaggio e appunto come si faceva tanto tempo fa con i metodi più semplici per esempio il cifrario di cesare di cui abbiamo parlato diffusamente e infine ci siamo ancora dati ai gameplay ci hanno proposto luciano ci ha proposto questo suo gioco sempre su steam anche di questo c'è il dimostrativo che potete provare non c'è ancora la versione definitiva però quello che ho visto è sicuramente un gioco praticamente finito avete solo a disposizione il dimostrativo ma penso che prima o poi verrà pubblicato il gioco completo probabilmente dovrà creare nuove nuove unità nuovi nemici nuovi boss e questa era la nostra settimana su il nostro canale ma andiamo a scoprire qualche altro canale con qualche notizia interessante di appunto degli ultimi giorni e non posso che iniziare con project cd perché i video che sono stati pubblicati la scorsa settimana sono interessantissimi innanzitutto abbiamo dato un'occhiata alla collezione di avventure testuali di project cd vedete qui i dischi di backup i manuali the guild of thieves davvero interessante questa collezione e mi viene voglia di riprendere queste avventure testuali di magnetic scrolls di riprovarle perché sono difficilissime all'epoca non credo di essere mai andato oltre i primi tentativi ma sempre project cd ci ha anche mostrato un libro in suo possesso dal titolo credo fosse il titolo originale i nove algoritmi che hanno cambiato il futuro un libro di una decina d'anni fa se non sbaglio in cui si mostravano alcuni algoritmi che sono quelli poi che utilizziamo ancora adesso anzi se fosse stato scritto adesso questo libro ce ne sarebbero anche di nuovi come la stable diffusion per esempio che con l'intelligenza artificiale permette di creare immagini e qui invece si parla ancora di compressione dati firme digitali cose che in effetti usiamo tutti i giorni ma non sono più futuro sono il nostro presente se non addirittura quasi il nostro passato sempre su project cd è continuata questa serie che riguarda il commodore 64 che noi purtroppo non siamo più riusciti a portare avanti almeno per il momento ecco qui che ci mostra in pratica come realizzare il main loop di un gioco in questa serie dove piano piano si va a costruire un gioco completo il game loop è proprio la base fondamentale frame dopo frame viene fatta avanzare la simulazione del gioco e qui ci ha spiegato project cd il nostro Claudio come fare e infine l'ultimo video di un'ora fa quando sto registrando sabato l'avete scoperto ecco questo video invece riguarda la struttura di un compilatore continua questa serie interessante perché creare un compilatore con questi strumenti che sono già un po datati è una cosa che mi interessa e quindi seguo il non ho ancora guardato questo video ma lo consiglio a scatola chiusa e lo andrò a vedere perché davvero questa serie mi interessa ora passiamo ad altri canali non stiamo a monopolizzare tutto con mille un'avventura e project cd ho scoperto questo let's make game 1070 iscritti mi pare che sia in lingua inglese non ho ascoltato i video ma ho notato che tutta una serie di video hanno a che fare con l'aira locomotion che cos'è l'aira mi sembra che sia un demo una demo che ho portato forse tanto tempo fa di unreal engine e si vede che questo canale è riuscito in qualche modo a estrapolare dalla demo tutte le animazioni e le ha prese disponibili mi pare che il file sia un giga me lo sono scaricato eventualmente farò un video anch'io su questo argomento magari mettendo il mio personaggio al posto dei soliti robot di unreal c'è tutta una serie di animazioni ma non solo questo anche la gestione delle armi un po di parkour gli impatti dei proiettili ecco li vedete adesso qui sia pistola che fucile molto interessante vediamo se riesco a fare qualcosa su unreal sfruttando questo codice poi c'è il canale di inferenzia che si è dato l'avete già visto varie volte l'ho già consigliato varie volte si dà la modellazione tridimensionale e in soli in soli dieci minuti riesce a modellare cose interessanti a basso numero di poligoni con blender in questo caso la sfida era modellare un drone in dieci minuti è davvero utile per imparare a gestire velocemente tutto questo un canale di cui non ho mai parlato non ho idea del perché sia successo è quello di archeologia informatica ci occupiamo spesso almeno tempo fa ci occupavamo spesso di retro gaming e di retro computing archeologia informatica a tutta una serie di materiali sull'argomento dieci anni che ci propone tutte queste storie antiche della dell'informatica e recentemente appunto su runtime raid radio ma c'era stato forse la diretta su io ho visto la diretta ma qui un pezzo ma qui non vedo non vedo il video forse l'ho vista su twitch probabilmente a live stream era un live stream eccolo qui ecco c'è anche però il podcast se non volete vedere le facce di tutti di pizzi no di tutti questi abituati di archeologia informatica potete anche ascoltare il podcast che hai sul canale rantam radio su spreaker trovate queste cose se non le conoscete recuperate le avete dieci anni di materiale da recuperare interessantissimo l'archivio del signor santilio tutte le settimane anzi due giorni fa questa volta ha pubblicato un video sul dicembre 1987 ma tutte le settimane quattro giorni fa la diretta questo però è un video che riguarda il dicembre 1987 con tutti questi giochi dell'amstrad cpc questa addirittura una parte quinta ci sono talmente tanti giochi che si possono fare una marea di video tutti i giochi mostrati c'è il gameplay ma anche commentati ora interrompiamo la pubblicità vediamo se ci perseguita anche sugli altri canali quindi il signor santilio va a recuperare computer che ormai io l'amstrad non l'ho mai avuto me lo ricordavo però è davvero passato tanto tempo e l'avevo un po' perso di vista l'accademia italiana videogiochi questo canale che in realtà è una vera e propria scuola di che insegna a creare videogiochi continua con i suoi progetti ambientali qui abbiamo lorenzo sanna che ci propone questo straordinario ambiente vedete ci sono queste casette medievali c'è un bello sfondo con un castello i cammini fumano ci sono queste queste zanzare intanto zittisco whatsapp se non mi perseguita ci sono queste zanzare questi effetti ambientali il pulviscolo è davvero un bel ambiente ben realizzato ben illuminato non so quale strumento abbia utilizzato ma davvero complimenti per questo bel progetto un canale di cui non ho mai parlato perché forse ultimamente ha pubblicato poco ma in realtà vedo che i video ci sono me lo sono perso io non so per quale motivo è il canale di riccardo masini che ha scritto libri sui war games anche il padre credo fosse un autore di libri sui su questo particolare gioco che risale addirittura agli albori del delle simulazioni di guerra no si parte con questi war games effettivamente per simulare delle battaglie e ci parla di quest'ultimo video della battaglia d'inghilterra grandi manovre non l'ho ancora ascoltato ma è sempre molto interessante dovrebbe fare anche più gameplay spiegarci molti più giochi come mi era capitato di seguire ultimamente però può darsi che ne sia persi io perché c'è talmente tanto materiale ma vi consiglio il canale sicuramente già lo conoscerete se siete appassionati di war games infine game from scratch non ha bisogno di presentazioni anche lui tutti i giorni propone nuovi video quello che interessava a me adesso e partirà sicuramente la pubblicità è che anche epic games non solo unity sta evidentemente passando dei brutti momenti e se andate a ascoltare in inglese ma si può tradurre automaticamente ci spiega game from scratch di questo messaggio di team sweeney di cui abbiamo parlato più volte sul canale andando ricordare gli ultimi successi con fortnite oppure zzzt il suo gioco con cui agli inizi degli anni 90 ha cominciato a fondare il suo impero che poi è diventato epic games e a quanto pare neppure epic games col suo unreal engine con fortnite con tutto quello che aveva lanciato qualche mese fa aveva lanciato unreal engine per fortnite continua a regalarci giochi continuamente sul suo marketplace e anche assets per unreal ebbene 900 qui mi pare di aver letto più di 800 licenziamenti ed è una bella batosta per chi lavorava per non tanto l'unreal engine penso sia qui non è che cambi niente il video è tutto così va a leggere tutta la notizia tutte le spiegazioni di team sweeney non se la passa bene quindi neppure purtroppo epic games e eppure voglio dire i regali che fa ciò che fa ciò che guadagna in fortnite ciò che dovrebbe guadagnare con la real engine evidentemente sta sta regalando troppo sta spendendo più e l'aveva anche detto team sweeney nella sua lettera sta spendendo più di quello che incassa e deve risparmiare evidentemente sui lavoratori su chi lavora per lui sono tanti 800 e più licenziamenti è il 16 per cento della forza lavoro di tutto il gruppo quindi non è proprio però 16 per cento insomma uno su cinque quasi è stato licenziato vedremo come andrà a finire speriamo che non sia una crisi che si sta diffondendo nell'industria videoludica perché in effetti ci sono state delle buone uscite nei videogiochi dei buoni incassi ma evidentemente si spende più di quello che si guadagna e quindi non sono tutte ciò che luccica effettivamente non è tutto oro a quanto pare eppure c'è tanto luccichio nell'industria si sente sempre qualche problematica che salta fuori o come sviluppatori sfruttati o evidentemente anche con incassi che non riescono a reggere tutto quello che si vuole e vorrebbe produrre questa era la notizia più sconvolgente della settimana e prima unity che cerca di incassare di più ora epic games che non vuole modificare evidentemente le sue percentuali ma deve liberarsi di parecchi sviluppatori i lavoratori in genere mi sembra che abbia tagliato molto su fall guys mi sembra che non sta andando probabilmente molto bene immagino che i team che lavorano su fortnite invece non siano stati toccati neppure quelli dell'unreal engine questa era la settimana qualche notizia una notizia importante l'abbiamo data perciò possiamo dire che il nostro tg1001 è in fondo una notizia la data per il resto vi aspetto la prossima settimana con tutti i nostri video vedremo che cosa proporre se seguire i vostri consigli in ogni caso grazie ancora per aver seguito il video e ci si rivede in un prossimo video o in una prossima diretta la prossima settimana ciao a tutti